Amici del Il Tuo Volley, benvenuti nella mia cucina e oggi prepariamo un piatto gustoso. Yaki, è tutta la vita che sono di fare un programma di cucina. No, vabbè, allora farò te. Ti devo dire. Ciao! Vabbè, sigla, botto e mangiato. Amici del Il Tuo Volley, benvenuti nella mia cucina. No, vabbè, benvenuti nella cucina di Beretta che abbiamo occupato accusivamente. Quest'oggi, per la prima e l'unica puntata di botto e mangiato, facciamo un piatto veramente gustoso e facile da preparare in pochi minuti. La classica pasta in bianco. I ingredienti per due palavolisti veramente affamati sono 500 grammi di rigatoni, parmigiano, sale grosso e 40 grammi di burro. E ora iniziamo la preparazione. Per un'ottima pasta, portiamo all'acqua ebollizione, versiamo uno pugno di sale grosso. E buttiamo in pentola la pasta e la lasciamo cuocere per 11 minuti. Dopo 11 minuti la pasta è pronta, ora andiamo a scolare e ad impiattare. Ora andremo ad impiattare questa splendida pasta, proviamo a fare un'opera d'arte. Il piatto è pronto, botto e mangiato. Tomas è pronto, vieni ad assaggiare! Oh finalmente! Vai assaggia questa creazione. Interessante? Ecco io il tuo topo. Vediamo? un po' di calma un po' di calma